Buongiorno, Davide Gabusi, autore del testo Danze Filuziane, Ballo Liscio alla Filuzzi. Vi mostreremo alcune figurazioni di base di questo testo. Sono figurazioni molto divertenti, di ballo per tutti. Potete venire a imparare nelle nostre scuole di ballo, oppure le potete imparare per poi insegnarle ai vostri allievi. Sono con me una splendida coppia di campioni, sono i campioni italiani di Danze Filuziane, Alex Abbioni, Alessia Gabusi. Bene, siamo pronti con Alex e Alessia a mostrarvi lo stacco semplice a destra. Figurazione possibile da eseguire nella mazzurca e nell'alz. Può essere eseguita nella seconda, nella terza e nella quarta parte indifferentemente. Bene, noi iniziamo. Giro a destra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Apertura della dama sul lato destro del cavaliere. Uno, due, tre. Riverenza. Uno, due, tre. Cambio di posto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Riverenza. Uno, due, tre. Presa della dama. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Allora ve lo mostriamo con la musica. Ed ora ve la mostriamo sulla musica del waltz. Con Alex e Alessia vi abbiamo mostrato lo stacco semplice a destra, descritto sul testo della mazzurca e del waltz. Grazie. Grazie. Grazie.